questo bel cucciolo l'abbiamo chiamato lampone lampone è nato qui in canile e vi è entrato nella pancia della sua mamma perché quando ci hanno segnalato questa cagnolina era tanto incinta e infatti il giorno dopo ha partorito e ne ha messi al mondo pensate otto nonostante lei fosse di taglia molto contenuta medio piccola otto cuccioli bellissimi stupendi erano di una tenerezza infinita ma tre di loro sono volati via purtroppo accade ai cuccioli molto piccoli nelle cucciolate e a noi questo è dispiaciuto da morire cinque di loro tra cui lampone sono cresciuti sono diventati bellissimi lampone ha quasi tre mesi il 10 compre tre mesi finora nessuno l'ha mai richiesto abbiamo provato a proporlo ma niente lui è un lupettino tanto somigliante alla sua mamma e quello che ha preso di più da lei di quelli sopravvissuti naturalmente nero focato come lei il faccino uguale chissà se sarà contenuto come la sua mamma che veramente piccolina 11 chili circa e anche dolcissima e questa mammina straordinaria ha lasciato il suo carattere a tutti i suoi piccolini sono meravigliosi questi tesori faranno la felicità di qualsiasi famiglia ma noi non li daremo ad una famiglia qualsiasi questa famiglia degna di adottarli deve essere veramente amante degli animali deve considerarli membri a tutti gli effetti può trovare una famiglia una bella famiglia l'unica cosa povero cucciolo si trova qui in estate e in estate lo sappiamo che la gente non pensa ad adottare ma andare in vacanza se sei fortunato la famiglia giusta anziché pensare alle vacanze in questo momento sta pensando all'adozione di un cucciolo da amare per sempre quel cucciolo potresti essere tu buona fortuna tesoro ciao 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 ciao